Ciao da Axim, vendesi, vendesi, qualcuno l'ha detto tra i piccoli azionisti in assemblea degli azionisti, Juventus, ormai Allegrentus, speriamo che questa proprietà venda la società, speriamo poi di non finire nelle mani di questo e quest'altro, vabbè, lì poi sono opinioni, ma la speranza della vendita di Juventus FC-SPA trasformata in Allegrentus FC-SPA, dove FC ed SPA non significano quello che pensate, è una necessità, è un'impellenza, è una cosa non più procrastinabile, è una cosa fondamentale, è una cosa imprescindibile, come ho già spiegato anche parlandovi della prospettiva Antonio Conte dopo Allegri, Antonio Conte diventa una necessità dopo Allegri, ammesso che se ne vada Allegri, perché bisogna combattere l'allegrianesimo e perché nel frattempo non c'è un reset, non c'è un azzeramento della dirigenza, se ci fosse e ci sarà un azzeramento della dirigenza eppure della proprietà, allora non ci sarebbe necessità. De Antonio Conte perché si andrebbe a costituire quel presupposto, quei presupposti, si andrebbero a creare le precondizioni per iniziare veramente un nuovo ciclo, un nuovo progetto, affidando la Juventus, ritrovata Juventus, ad un allenatore anche giovane, anche propositivo, anche senza titoli, anche senza grossa esperienza, perché lo si lascerebbe lavorare tranquillamente con una nuova dirigenza che andrebbe poi a conquistare anche il favore dei tifosi nel merito sul campo con il lavoro. Ma tornando all'assemblea degli azionisti, io non voglio andare ad analizzare i dettagli perché poi ci sono tante cose che potrebbero anche essere interessanti, per esempio la risposta di Ferrero al discorso della possibile vendita e del possibile delisting. Non ci risulta che la controllante abbia avviato procedure per il delisting, il che mi fa pensare che stanno per farlo e lo sanno, ma per il momento non possono dirlo e hanno forse strategicamente evitato di iniziare questa trafila prima dell'assemblea, in modo tale che in assemblea si potesse rispondere non è ancora iniziata questa trafila. Poi ci sono i conti che in parte non tornano, quindi senza andare nel dettaglio e nello specifico vi dico soltanto quello che poi, secondo me, è quello che resta di più, i significati, le riflessioni, i concetti, gli aspetti fondamentali, soprattutto del rapporto tra questa dirigenza e la proprietà, dell'ancora, ancora sussistente diatriba tra Andrea Agnelli e John Elkan, sottesa, forse non così manifesta ma onnipresente, e anche del discorso della tifoseria rispetto a questa dirigenza e tutta una serie di rivendicazioni postume che sono abbastanza fuori luogo. Per esempio il discorso bisogna difendersi di più, dovevate difendervi di più, siete scesi a patti con il potere. Naturalmente poi Tutto Sport cosa poteva fare? Tutto Sport di cosa poteva mai parlare oggi in prima pagina se non andare ad enfatizzare proprio questa vicenda. E ripeto il solito discorso, ma secondo voi è ancora possibile, è ancora accettabile che il direttore di Tutto Sport sia sempre quello che è stato pescato a telefonarsi con l'indagato Fabio Paratici, mentre al telefono si complimentava con Fabio Paratici per quel modus operandi sul mercato e sui bilanci che ha portato all'interessamento di Consob, che ha portato all'apertura dell'inchiesta penale, che ha portato davanti alle porte del processo penale e che ha portato anche alle sanzioni sportive. Per me non è accettabile, ma d'altra parte finché permane questa situazione Tutto Sport con Vaciaco cosa può mai fare? Andare sempre a picconare il più possibile tutta quanta l'inchiesta. Il problema diventa l'inchiesta e se il problema è l'inchiesta, il problema non è chi ha portato all'inchiesta e quindi chi ha portato ai processi, e cioè chi eventualmente ha commesso delle irregolarità ma chi si è trovato a dover raccogliere la patata bollente di queste irregolarità che non ci sono e cioè la nuova dirigenza che non si è difesa abbastanza. Quindi il nemico non è chi fa del male ma chi giudica chi ha fatto del male. Bellissimo, cioè i giudici sono il nemico e allora di fronte al nemico che sono i giudici, il colpevole non è chi ha portato i giudici a dover agire senza del quale non sarebbe successo nulla, cioè la dirigenza Agnelli ma la nuova dirigenza che va a patti con il nemico invece di riconoscere che magari questa dirigenza con tutti i difetti per me tantissimi che ha con tutte le indegnità, così possiamo dire, della Juventus che ha e sono tantissime con tutti i motivi sostanzialmente perché vogliamo che se ne vada si è trovata a dover affrontare una situazione più grande in una situazione che non dipendeva da essa, non dipendeva da lei, da questa dirigenza ma dipendeva dalla dirigenza precedente per quanto la proprietà sia rimasta la stessa e quindi tutto sport va a enfatizzare che bisognava difenderci di più ti devi difendere di più che poi se uno non legge bene e non sa cosa è successo ieri vede la prima pagina oggi e dice ma stiamo scherzando la Juve di Allegri già si difende e fa solo quello già si difende tantissimo e si devono difendere anche di più che devono fare se non mettere direttamente dentro la porta proprio dietro la linea di porta a fare la barriera, a fare il muro e basta ecco, quindi anche scherzando possiamo leggerla così ma c'è poco da ridere perché si va a enfatizzare questa cosa cioè davvero stiamo parlando di, e questo è il punto chiave stiamo parlando di tifosi, stiamo parlando di opinionisti, stiamo parlando di azionisti stiamo parlando di giornalisti che non hanno detto mezza parola contro Agnelli e la sua dirigenza mentre con quel modus operandi distruggevano la Juventus e adesso hanno il coraggio di prendersela con la nuova dirigenza che ha cercato di mettere una pezza attenzione, io non giustifico nessuno, io sono contro sia Agnelli che Elkan quindi io non sono mai stato agnelliano se non nella misura in cui mi piaceva Andrea Agnelli fino ad un certo punto per il suo modo di fare il presidente ma chiaramente c'erano tante cose che non emergevano ancora sembrava andarsi tutto bene, ma non sono mai stato Elkaniano, John Elkaniano quindi non mi si può dire nulla, sono totalmente disinteressato per me vanno messi da parte tutti e due però purtroppo bisogna osservare cari tifosi cari tifosi rimasti della Fu Juventus che questa diatriba e questi contrasti familiari continuano a dilaniare dall'interno della Juventus quindi serve la vendita, serve la cessione per salvare la Juventus non solo da Allegri e dall'allegrianesimo e quindi dagli allegriani che sono una cosa diversa dall'allegrismo perché l'allegrismo se vogliamo è l'ideologia calcistica di Allegri mentre l'allegrianesimo è la costruzione mentale quasi religiosa degli allegriani che va ben oltre e quello è un grosso nemico ma bisogna salvare la Juventus anche dagli Agnelli e da Elkan quindi mi sembra fuori luogo andare a dire dovevate difendervi di più e anche fuori luogo dire si sono persi 100 milioni di Champions perché quando si perdeva contro il Maccabi Haifa o quando comunque si perdevano a 5 partite il su 6 nel girone si veniva eliminati dal girone lì non si sono contati i soldi persi non si è andato a fare l'elenco dei debiti a carico di Massimiliano Allegri a carico dell'allenatore e anche della dirigenza precedente com'è che contano solo i soldi che non si prendono perché si deve andare a patti con la UEFA per evitare di subire delle sanzioni peggiori? io capisco che dopo un decennio ed oltre di Andrea Agnellismo è pieno di tifosi che la Superlega, UEFA brutta e cattiva, FIGC brutta e cattiva Agnelli non ha fatto niente di male e tutta una congiura siamo stati vittime di ingiustizia no, io ribadisco, questa società è stata impunita impunita il patteggiamento che Ferrero e Scanavino hanno potuto sbandierare in assemblea da 718 mila euro sul secondo filone è una cosa vergognosa fa vergogna alla FIGC, al calcio italiano alla giustizia sportiva, allo sport italiano fa vergogna allo sport italiano meno alla Juventus, alle Grentus perché se ti consentono di prendere una cosa che sta lì esposta tu te la prendi, non passi per ladro se ti dicono prego, accomoda, ti prendi pure non hai rubato nulla ecco, questo è il punto quindi è una vergogna per lo sport è una vergogna per la FIGC e gli stessi tifosi e azionisti che evidentemente stanno dalla parte di Andrea Agnelli credo, credo, immagino quando Andrea Agnelli era diceva a Ceferini di fare il padrino di battesimo di sua figlia quando Andrea Agnelli si sedeva accanto a Ceferini quando Andrea Agnelli era presidente ECA ed era in simbiosi con Ceferini dove erano? non si lamentavano di Ceferini e della UEFA? quando Andrea Agnelli invitava Gabriele Gravina in segreto insieme a pochi altri alla Mandria per discutere su come salvare un calcio italiano iperindebitato dove erano questi tifosi? lì Gravina era brutto e cattivo la FIGC era brutta e cattiva ma quando la stessa FIGC consente quel patteggiamento vergognoso si sta ancora a parlare? poi ci sarebbe tanto da dire su quello che ha detto magari Scanavino per esempio la Next Gen che è una cosa ridicola si può dire quello che si vuole sulla scorsa stagione per provare a vendere un prodotto che poi quest'anno chissà come mai sta andando a rotoli sta andando nel disastro nei risultati sul campo ma evidentemente anche nella proposta di giocatori si evita però di dire che se questi giocatori giovani sono forti e promettenti è perché c'era Tognozzi insieme ad un gruppo scouting che li ha trovati li ha selezionati negli anni poi adesso Tognozzi se ne è andato e chissà che cosa verrà ma nel frattempo questi giovani vengono messi nelle mani di Allegri che li manda in prestito perché è lui che decide è lui che decide l'intervista di Rabiot Adason a Matri dimostra per l'ennesima volta che Allegri ha avuto grandissimo peso decisionale sul mercato e quindi è facile parlare di Next Gen mentre questi giovani vengono sviliti e vengono svalutati e poi lo stesso Tutto Sport ma di questo ne parliamo a parte ospita in prima pagina un'intervista a Dicanio che tira una bordata contro Vlaovic a due giorni da una partita fondamentale in cui serve anche il miglior Vlaovic queste cose ovviamente non fanno indignare gli Juventini veri perché gli Juventini veri si indignano quando Absim e pochi altri muovono delle critiche magari argomentate mentre Tutto Sport automaticamente qualunque cosa dica è il Vangelo bianconero quindi possono tranquillamente tirare bordati a Vlaovic nessuno si offende perché? perché Vlaovic adesso è diventato un nemico perché se dici che Vlaovic viene svalutato stai criticando Allegri e quindi devi necessariamente difendere Allegri dicendo che il problema è Vlaovic che la colpa è di Vlaovic e poi ancora le stesse risposte di Ferrero se vogliamo sono entrato in camera di consiglio e mi aspettavo una multa e mi sono trovato con 15 punti diciamo una cosa abbastanza ridicola cioè bisognava capire che c'era qualcosa di più grave dopodiché però Ferrero dice anche un'altra cosa importante e cioè non potevamo permetterci di stare due anni fuori dalla Champions ecco perché siamo andati a fare questo accordo con la UEFA così siamo stati esclusi dalle competizioni UEFA per un anno soltanto ecco questo significa che non solo a maggio-giugno scorsi in prospettiva la società non poteva assumersi il rischio di stare due anni fuori dalla Champions ma anche adesso è un rischio che non si può ancora assumere quindi questo problema permane questo cosa significa? che dopo questa stagione senza coppe è veramente imprescindibile andare nelle coppe e in particolare nella Champions ovviamente poi sappiamo che Allegri non soggiace a nessuna meritocrazia però per dire almeno ecco facciamo pesare anche queste parole quando sarà perché sarebbe stato interessante a parte qualcuno che pure ha criticato sommessamente Allegri ma sarebbe stato interessante nell'assemblea degli azionisti da parte dei piccoli azionisti dire scusi signor Scanavino ma lei il 7 giugno disse bisogna migliorare il gioco nel confermare Allegri dov'è il miglioramento del gioco? e siccome il miglioramento del gioco non c'è assolutamente non è che magari vi siete pentiti della conferma o state meditando anche un esonero in corsa o magari sarà valutato anche su questo a fine stagione beh sarebbe stato il caso di mettere un pochino in difficoltà oppure di dire ma che fine ha fatto Francesco Calvo che aveva quel ruolo oppure appunto chiedere sì sono stati aumentati i ricavi e sono stati ridotti i costi ma non si potevano aumentare di più e diminuire di più e l'attrattività che manca del gioco non è una cosa quantificabile a cui pure puntate cioè è strano volete aumentare i ricavi poi però non vi interessa se il gioco non è attrattivo e la gente non guarda le partite ah già è vero adesso c'è il ritrovato entusiasmo per cui dopo il flop della campagna abbonamenti 16.000 conferme su 20.000 preabbonati e solo 1.209 abbonati per un totale di 27.200 fonte ufficiale di Juventus dopo aver fatto i mini abbonamenti prendi 3 paghi 2 svendendo quindi biglietti come se fosse un qualunque outlet o discount fate anche il Black Friday sui biglietti di Juventus Sassuolo al 50% che già fa ridere così e nel frattempo state lanciando con grande anticipo più di un mese prima dall'inizio del girone di ritorno due mesi prima dall'inizio del girone di ritorno gli abbonamenti per il girone di ritorno che ovviamente costano meno della metà degli abbonamenti di tutta quanta la stagione e uno dice ma che senso ha dal punto di vista aziendale perché se avete ritrovato le entusiasme i tifosi stanno andando allo stadio tu vendi il biglietto a prezzo pieno a prezzo pieno non gli vai a fare lo sconto non dici dammi più soldi adesso invece di andare le singole volte perché significa che tu stai rinunciando ad un credito sicuro ad un credito sicuro e anche abbastanza imminente perché lo stai facendo perché sei disperato e hai bisogno di liquidità o perché sei consapevole del fatto che questo entusiasmo è solo momentaneo tra poco cominceranno le sconfitte e quindi sai che questo entusiasmo verrà meno e la gente non comprerà più biglietti e allora preferisci sfruttare adesso la leva di questo entusiasmo momentaneo per vendere i mini abbonamenti e ne hai già venduti mille come ci informa chi non ci ha informato del flop della campagna abbonamenti estiva perché si dicono solo le cose che conviene dire e da questo punto di vista ecco anche un altro dettaglio potremmo dire magari più tecnico il bond da 175 milioni che è stato aperto nel 2019 e quindi dopo 5 anni scade primavera prossima non lo vanno a rifinanziare con un altro bond perché dicono che ci sono strumenti che sono più economici rispetto al rifinanziamento cioè i tassi di interesse non sono convenienti però nel frattempo sono andati a costituire circa 200 milioni di linee di credito e poi una parte del pagamento del bond sarà coperta proprio dall'aumento di capitale fantastico quindi stiamo dicendo comunque che l'aumento di capitale questo qui da 200 che è stato approvato serve a coprire il bond da 175 che era il bond ronaldo del 2019 ma allora o si dice chiaramente e questa dirigenza lo fa in maniera esplicita che la gestione precedente è stata uno schifo un disastro una distruzione e quindi dicono noi adesso facciamo cose diverse oppure non ha senso rimanere con un piede in due scarpe cioè in posizione ibrida per cui si difendono i bilanci tra virgolette precedenti con anche la questione Consob ancora la nuova questione Consob che Ferrero minimizza dicendo non intacca molto il bilancio ma sono comunque delle irregolarità che in quanto tali possono essere gravi non si vanno dicevo a giustificare i bilanci forse irregolari precedenti perché non dimentichiamo che dal processo penale può venire fuori anche un falso in bilancio per poi dire ma abbiamo bisogno dell'aumento di capitale per coprire il bond bisognerebbe dire il bond all'epoca fu una strategia fallimentare è stato un disastro adesso siamo costretti a fare un aumento di capitale per coprire quel bond si dici ma in realtà hanno le linee di credito ma tu le linee di credito le devi andare le devi andare ad utilizzare per coprire il bond e quindi l'aumento di capitale ti serve comunque per compensare le linee di credito che vanno via e quindi è comunque l'aumento di capitale o direttamente o indirettamente che va a coprire il bond quindi è un disastro e quindi si può accettare una cosa simile cioè stiamo parlando di una società che onestamente se non avesse Exor dietro non so che fine avrebbe fatto non dico che sarebbe fallita non dico che avrebbe portato i libri in tribunale ma voglio dire che la situazione sarebbe stata perché forse è abbastanza complicata ora viviamo quindi chiudo in un momento come questo in cui ancora non ci si rende conto che il problema sul campo è Allegri con il suo staff e che il problema più grande è la proprietà anche con questa nuova dirigenza in un momento in cui se critichi perché se criticavi e se critichi Agnelli con la sua gestione significa che stai infangando quegli scudetti che invece avresti dovuto celebrare e perché valgono solo gli scudetti e non come li hai vinti solo gli scudetti e non come li hai vinti e quindi poi non è vero che hanno ragione gli anti-Giuventini a travisare il motto Giuventino vincere non è importante per l'unica cosa che conta cioè anche vincere in maniera irregolare ecco se critichi Allegri la stessa cosa se è un anti-Giuventino perché poi dobbiamo leggere da persone che conoscono da anni i dirigenti presenti e passati della Juventus che Allegri se vince ha fatto il suo e non bisogna dirgli nulla perché lo sappiamo che con lui non c'è bel gioco e quindi l'importante è vincere le partite questi sarebbero tifosi questi sarebbero tifosi che sperano nel peggio che si accontentano del minimo e vogliono la mediocrità non aggiungo altro perché in realtà ci sarebbero moltissime altre cose da dire ma come già detto non mi andava di andare troppo nello specifico semplicemente di comunicare di comunicare le sensazioni i concetti le espressioni le riflessioni le argomentazioni su questa assemblea degli azionisti abbastanza triste grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti che prosegue se volete su Discord link in descrizione con tanti spazi tante chat per parlare di calcio se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi e seguitemi anche su Upsimout il mio secondo canale YouTube ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti